Grazie per la visione! Grazie per la visione! Da qui, arabesque con apertura del braccio destro, arabesque con apertura del sinistro, poggio il destro a terra, sale su il braccio destro, porto dietro il destro, incrocio il sinistro dietro al destro, il braccio sinistro sale su, giro a sinistra. Grazie per la visione!